Mi chiamo Giuseppe Giardullo e mi occupo di sport a 360 gradi. Per questo motivo, qualche anno fa, mi sono avvicinato al mondo dell'europrogettazione per dare un'opportunità alla mia associazione sportiva di lavorare con lo sport oltre i confini nazionali interfacciandomi con altre realtà che operavano e che operano nel resto d'Europa. Ho proposto un progetto Erasmus Plus Sport con l'aiuto di persone esperte che già operavano nel settore e avendo vinto il progetto che è stato appunto finanziato dalla Commissione Europea ho potuto lavorare e toccare direttamente con mano tutti gli aspetti della progettazione europea. Per questo motivo ho deciso di innalzare il mio livello culturale in questo senso e mi sono iscritto al corso di europrogettazione proposto da Idea Europa e da Mattia Di Tommaso. Qui fortunatamente ho trovato tutti gli strumenti che stavo cercando, ho colmato le mie lacune e ho avuto anche l'opportunità di cimentarmi direttamente nella scrittura di un progetto per conto di un'altra associazione. Per questi motivi consiglio a tutti di frequentare questo corso che offre tante opportunità per lavorare in questo mondo e soprattutto per accrescere la propria cultura e le proprie opportunità lavorative.